Buonasera a tutti, grazie di essere venuti a questa presentazione del mio libro sullo sciamanesimo e guarigione, presento le persone che sono di fianco a me, Paola Mazzucchelli che ha curato l'editing, si dice così giusto, del libro per Crisali di editore e la mia compagna d'avventure Martina che sta condiviso con me molte delle esperienze che magari accenneremo stasera o che chi di voi vorrà potrà leggere nel libro. Dare una definizione to cure di sciamanesimo ovviamente è molto complesso perché è un qualcosa di molto vasto e si esprime nel mondo in maniera diversa secondo me del contesto culturale, tradizionale, specifico, però dalle nostre esperienze di contatto con queste popolazioni indigene diciamo che è emerso un denominatore comune molto forte che abbiamo cercato di tradurlo nel libro e in particolare è il contatto che hanno queste persone ancora oggi che viviamo come sappiamo nel 2015 con la natura, quindi hanno un rapporto con la natura molto molto immediato, cioè non mediato da nulla ma molto diretto, hanno un rapporto molto rispettoso nei confronti della natura, delle forze della natura con la quale queste persone si confrontano quotidianamente perché talune popolazioni come potete immaginare o sapete vivono in condizioni per noi molto proibitive, pensiamo alla foresta amazzonica, alcuni deserti del Messico o la Siberia. Quindi per me sciamanesimo è stato il riscoprire questo contatto diretto con la natura che un po' da cittadino moderno come penso molti di voi insomma avevano gradualmente perduto e ho scoperto anche le potenzialità di questo contatto che poi si è tradotto in quello che per me è anche un'altra esperienza fondamentale, un altro grande comune denominatore di tutte queste figure che passano sotto denominazioni diverse a seconda del contesto culturale specifico, alcuni li chiamano sciamani, alcuni nell'area ovviamente centro sud americana curandera su uomini di medicina, medicine man per gli indiani d'america e così via, che appunto aspetta la guarigione. Per me vivere lo sciamanismo oggi ed è stata una riscoperta perché molti di noi hanno una visione un po' esotica anche molto lontana di queste pratiche, talvolta anche molto confusa a mio modo di vedere, è stato proprio recuperare questo contatto con la natura che ci circonda nel senso molto nato del termine, quindi un riscoprire fuori ciò che c'è mi ha permesso di riscoprire dentro ciò che c'era e quindi scoprire che ciò che risuona dentro di noi è comunque espressione di ciò che è fuori e questo contatto è un po' l'essenza di questa pratica, di questa disciplina, di questa via di consapevolezza, insomma ritrovare questa connessione intima con la natura circostante, insomma questo per me è lo sciamanismo. Che però è anche un riequilibrare degli squilibri perché fondamentalmente da quello che io ho capito lavorando è che la guarigione è riportare un ordine che si è perso nel corpo e nell'anima, quindi quello che io vorrei capire da te è che cosa intende lo sciamanismo per guarigione perché noi nella nostra cultura siamo portati ormai alla medicina ridotto a piccole microscopiche sezioni e l'illusione è quanto più è piccolo tanto più posso conoscere la mia conoscenza sarà efficace, in realtà è esattamente il contrario perché più riduciamo, più dimentichiamo tutto il contesto, tutto l'insieme e quindi insomma mi pare di capire che la guarigione di cui parlo lo sciamanismo è una guarigione sicuramente del corpo ma anche dell'anima, è una guarigione anche più definitiva forse. Sì, come diceva Ippocrate le malattie non giungono per caso in un colpo solo ma a causa di piccoli peccati commessi contro la natura, per peccati per me Ippocrate intendeva un po' questo senso di lontananza a cui ce ne avevo prima che noi oggi possiamo assolutamente recuperare anche se viviamo a Milano, Roma, Torino, New York e quindi la guarigione è proprio questa distanza, cioè per molti sciamani il motivo della malattia o di uno squilibrio, di un disagio deriva proprio da questa lontananza, quindi lo sciamanismo diventa un po' un modo per ricolmare questa distanza che abbiamo creato culturalmente per tanti motivi che magari molti di voi conoscono con la natura che ci circonda, quindi più che mai secondo me lo sciamanismo rispetto a altre discipline è una disciplina fondamentalmente olistica, nel senso che lo sciamani include tutto nel proprio modus operandi, nella propria visione, non esclude nulla, quindi abbiamo visto sciamani operare con strumenti che magari per i puristi o i naturopati possono sembrare assolutamente banditi, così come includere anche medicinali o antidepressivi nella cura spirituale, quindi c'è un senso di inclusione che per me è alla base dello sciamanesimo, cioè non escludere nulla, perché proprio questa esclusione porta secondo la visione sciamanica al disagio, alla malattia, in qualche modo abbiamo escluso qualcosa dalla nostra vita, abbiamo escluso qualcuno dalla nostra vita, parti di noi che non accettiamo abbiamo escluso, che non vogliamo vedere, quindi questo senso di inclusione è un po' il potenziale terapeutico dello sciamanesimo, lo sciamano include tutto, non esclude nulla, quando siamo di fronte a queste persone sentiamo che loro ci vedono dentro, ma vedono anche cosa abbiamo dietro, qual è la storia personale che ci portiamo, qual è la storia familiare che ci portiamo e vedono da dove arriva il nostro disagio, questa visione ampliata a cui tu accennavi è proprio tangibile, la si percepisce immediatamente quando si lavora con loro, pensando a tutte le popolazioni che abbiamo incontrato, sia insomma in Messico, Sud America, Venezuela, Peru, Nepal, insomma hanno questa visione che si percepisce essere veramente a 360 gradi e che va un po' al di là di quello che è l'aspetto contingente, di quello che è l'aspetto manifestato, cioè quello che noi esprimiamo in quel momento, loro riescono a vedere ciò che ha portato la persona a essere quello che è, così com'è e ad accettare tutto quello che è, quindi fondamentalmente questa sta un po' la chiave secondo me, la capacità di accettarsi per come si è, totalmente con i nostri difetti, i nostri disagi, le nostre ombre, le nostre parti di luce, questa accettazione è alla base della terapia, è alla base della guarigione, quindi l'accogliere anche i lati oscuri che ciascuno di noi ha a suo modo, chi ben nascosti, chi più visibili, ecco aver consapevolezza anche di questo, quindi il tema della guarigione mi è sembrato veramente dominante in tutte le figure di questi uomini di medicina, chiamateli come volete, da nord a sud, est a ovest, le popolazioni indigene che vivono, ripeto, a talune ancora in condizioni molto difficili, si rivolgono allo sciamano, al curandero, all'uomo di medicina proprio perché hanno questa visione molto ampia della realtà delle cose, insomma. Guardavo voi mentre parlava Luciano e mi è piaciuta molto la faccia delle persone quando tu hai detto includiamo tutto compreso le medicine e quindi c'erano molti sguardi perplessi ed era molto bella questa cosa che hai detto sulle medicine, quindi volevo sottolinearla perché è proprio così, quindi anche le medicine fanno parte del famoso altare, quando semmai si arriverà a parlare di un altarino che ognuno o qualcuno ha a casa propria, addirittura qualcuno mette la pastiglia del mal di stomaco piuttosto che, ed erano queste facce di sbalordimento ma bella prova di quello che stavi dicendo, dell'allargamento degli orizzonti, del cuore, della mente, dello sciamanesimo. Nella visione sciamanica dietro a qualsiasi cosa c'è uno spirito, nella nostra automobile c'è uno spirito, nel quadro che abbiamo preso in casa c'è un motivo per il quale l'abbiamo preso, quindi forse siamo stati mossi da un sentimento, da uno stato interiore che ci ha portato a scegliere quell'immagine e quindi perché escludere tutto questo? Perché non aprirci a questa possibilità di trovare una forma di comunicazione con tutto quello che ci circonda che apparentemente può essere solo materiale ma in realtà nulla è solo materiale, tutto è fatto di energia in una forma più pesante, più leggera, più fine, però ecco la visione che tutto che ci circonda è un qualcosa col quale possiamo relazionarci includendo tutto in questo tutto è un qualcosa che contraddistingue qualsiasi tipo di sciamanesimo, credo di poter dire, da quello siberiano a quello dei toltechi, a quello dei ketchup in Peru insomma, quindi quando lavoriamo con loro all'inizio eravamo anche noi un po' stupefatti, dalle candele messe nelle lattine di Coca Cola alla presenza di simboli religiosi di ogni genere e tipo, ma proprio perché la persona che ha di fronte è una persona che si porta una storia, una cultura, un'ideologia, una religione, forse dei pregiudizi e quindi includendo tutto si dà alla persona la possibilità di ritrovare delle proprie risorse, di rientrare in contatto con delle proprie potenzialità e quindi la guarigione sciamanica sta poi in questo, proprio perché anche la malattia è vista in maniera diversa, la malattia include tutto, non è il singolo organo che è malato, ma è l'equilibrio che si è perso e che contempla tutto quanto, corpo, mente, spirito. Certo, storia personale, storia familiare, storia genealogica, c'è tutto questo che può portarci a vivere meglio, vivere con un maggiore equilibrio, con un maggior rispetto nei confronti di noi stessi e degli altri, quindi gli sciamani lavorano tenendo presente tutti questi fattori e quindi è un modo di procedere ovviamente molto, se volete, diverso da quello che può essere altre forme di terapie moderne, però insomma noi l'abbiamo trovato molto interessante, anzitutto sperimentandolo su di noi, ovviamente se no non saremo qui a parlarvene e forse non avremmo avuto la possibilità di scrivere questo libro, ma anche di cercare di diffondere questa pratica anche a noi occidentali moderni, insomma che viviamo separati dalla natura, in case riscaldate, prendiamo aerei, treni, automobili e quant'altro, non abbiamo più necessità talvolta di andare in natura, perché ci nutriamo col supermercato sotto casa, quindi non sentiamo quasi neanche più la necessità di andare in un bosco, sentire il profumo dei fiori o vedere un'alba, quindi sono tutte cose che purtroppo abbiamo un po' dimenticato, ma che gli sciamani ci mettono di fronte a queste cose, a questo ritorno, ci fanno riscoprire questo ritorno, che per noi è stato fondamentale, insomma, a livello personale, poi anche per chi lo pratica, per chi insomma ne ha fatto quasi una via di guarigione personale, ma anche di consapevolezza, scoperto di quanto è importante questo contatto con la natura, questo ritorno alla natura. Quindi è un allargamento che ci vede inseriti in un tutto, ma nel svolto di copertina c'è scritto una cosa che a me piace molto, perché dice se vogliamo realmente risonare le nostre e le altrui ferite, dobbiamo espandere il concetto che abbiamo di noi stessi, tutto centrato su di un io che si sente separato e isolato, fino ad abbracciare la confortante inclusività del noi. Quindi leggendo questo noi mi viene da pensare anche a un'integrazione che comprende il maschile e il femminile, quindi a questo punto vorrei coinvolgere anche Martina, che è il lato femminile di questo cammino, perché nella loro esperienza Luciano e Martina lavorano in maniera che si completano l'uno con l'altro. Quindi quello che mi incuriosiva era sentire l'esperienza dello sciamanesimo vista dall'ottica femminile. Certo quello che posso dire delle mie esperienze in giro per il mondo con Luciano è che ho sempre trovato l'uomo di medicina, lo sciamano, chiamiamolo come vogliamo, affiancato da una donna. Quindi c'è sempre stato l'uomo e la donna, se ci pensi, in tutti i lavori che abbiamo fatto in tutto il mondo dove siamo stati, con due ruoli diversi e complementari. Quindi anche quando tu hai detto che abbiamo viaggiato insieme e ci completiamo, sì, perché è proprio così probabilmente. Io faccio alcuni lavori, la donna credo per la sua sensibilità forse più portata a fare certi lavori e l'uomo con la sua forza, anche violenza, certe volte determinazione, probabilmente ne fa altri. Uno e l'altro insieme iniziano, lavorano e concludono il lavoro e quindi in fasi diverse e in momenti diversi. Per cui la mia esperienza è che l'uomo indigene, sempre ho trovato uomini e donne insieme con ruoli completamente diversi. Quindi la donna a volte, spesso l'ho trovata che accoglie, che prepara, magari un lavoro, permettetemi forte, che può fare in un secondo momento lo sciamano, per poi chiudere, per poi fare magari un bagno di fiori, per armonizzare quello che ha ricevuto, quello che ha lasciato andare, insomma il lavoro che poi ha fatto magari in un altro momento. Quindi sì, siamo ancora nel tutto, siamo ancora nel tutto, nell'uomo, nella donna e nella natura, che non è maschile e femminile, probabilmente sono sensibilità diverse, la mia e la sua, come l'uomo e la donna in generale. Quindi è messo insieme, fanno sciamanesimo, senza sesso. Culturalmente conosciamo l'importanza di includere anche entrambe le polarità, anche per chi, cioè la sua parte maschile e la mia parte femminile evidentemente deve essere ben presente. Gli sciamani lavorano sempre con queste due polarità ben presenti, al punto che a livello culturale, ad esempio in Siberia, ci sono molti transgender che diventano sciamani, proprio perché anche a livello fisico sono coloro i quali in qualche modo rappresentano e portano con sé entrambe i sessi. Quindi è un qualcosa che fa parte, come diceva Martina, di raggiungere un'integrità anche degli opposti, tra virgolette, apparenti polarità maschile e femminile, ma in realtà è una complementarità fantastica quello che si vede. La guarigione sciamanica è una sorta di gestazione, la donna prepara l'utero e lo protegge e l'uomo lo feconda. La guarigione sciamanica è la donna prepara il contesto, accoglie con amorevolezza, con gentilezza, per permettere una fecondazione e poi il tutto viene protetto come una gravidanza. E quindi quando una guarigione è in atto, è in atto una sorta di gestazione. E il silenzio e la cura che hanno in quei momenti, anche per quello che ti suggeriscono di fare dopo dei lavori di guarigione, quindi attenzione verso te stesso, verso certe cose, è proprio come se si fosse in attesa di una nuova vita, come se una nuova vita in grembo stesse per nascere, in qualche modo. E in effetti è una sorta di rinascita, quella che si percepisce quando si dicevano queste cure. Tutto questo personalmente mi ha portato all'equilibrio, quindi tutti questi lavori alla fine per me sono stati una cura e sono una cura al mio equilibrio, alla mia centratura, quindi la mia esperienza personale è stata questa. Alla fine di tutto questo discorso del maschile, del femminile, della natura, del sopra, dell'alto e del basso è la centratura, è l'equilibrio che ci portiamo dentro e quindi poi ci esprimiamo in un altro modo, viviamo in un altro modo, sentiamo in un altro modo, quindi il mondo pare diverso. Allora Luciano di solito non vuole mai parlare delle sue esperienze personali, però oggi dobbiamo forzarlo un po' perché ha scritto un libro con una balanga di notizie e informazioni e quindi io quello che gli chiedo di raccontarci è com'è avvenuto questo incontro con lo sciamanesimo, perché vedo delle facce, anche perché lo dico così apro e chiudo, lui professionalmente è un ingegnere, quindi un ingegnere sciamano ci incuriosisce molto. L'incontro a questo esperienziale è stato un viaggio in Nepal che feci un po' di anni fa, dove ho fatto il giro della Napurna, della catena della Napurna a piedi, ed è un'esperienza fantastica, dura 25 giorni, si cammina 8 ore al giorno a quote abbastanza 5.000-6.000 metri, si incontrano culture dall'induista alla buddista, ovviamente ci sono anche molti, coloro che poi avrei chiamato e scoperto essere sciamani, e lì ricevetti una prima lavoro di guarigione perché portavo con me e nel mio corpo ancora l'effetto di un incidente molto grave che feci quando ero giovane. E quindi quello che percepì in quel momento, quando incontrai questo uomo minuscolo con degli occhi profondissimi e che aveva un'anima grande come queste montagne, fu il momento in cui mi accolsi in questa casa, in questa casa col tetto un po' di paglia, insomma, in questo ambiente molto selvaggio, e fece un lavoro che allora non capì, e che poi appunto studiando e praticando sciamanesimo, oggi posso dire che fu una specie di recupero dell'anima che fece, nel senso che vide che gli effetti di questo trauma, insomma, che avevo subito era una perdita dell'anima, che è un qualcosa che, insomma, chi di voi studia sciamanesimo, vede sciamanesimo, è un qualcosa di abbastanza conosciuto, praticato, insomma, come forma di terapia. Quindi l'effetto del trauma è spesso quello di frammentare una parte, uso una terminologia meno sciamane, ma forse più comune del nostro sé, e questa frammentazione porta all'allontanamento di alcune parti di noi, quindi ci sentiamo un po' lontani dalla vita, un po' distanti, con delle sensazioni spesso di vuoto, no? Dove ci manca qualche cosa, ci manca qualche pezzo, diciamo così. E questo è stato il mio incontro vero e da punto esperienziale con lo sciamanesimo. Poi da lì c'è stato tutto, diciamo, la sperimentazione in quell'anno per me, parliamo degli anni 90, dei passi magici di Castaneda, quindi l'incontro con la tensegrità, che è stato per me fondamentale nel mio crescita, soprattutto in vista percettivo, nel percepire l'energia che c'è nell'universo, che ci circonda, che ci attraversa. Quindi è stato un lavoro, secondo me, di avvicinamento allo sciamanesimo, essendo quasi una pratica comunque che viene dagli antichi toltechi, quindi dagli sciamani che hanno vissuto, insomma, nella zona del centro Messico, soprattutto del Messico. Ecco, poi da lì chiaramente la cosa si è ampliata, viaggiando, quindi conoscendo la tradizione peruviana, dei Quechua, siamo andati diverse volte in Peru, in Venezuela, siamo andati in tanti posti, insomma. Quindi da punto esperienziale è nato così, poi mi ha sorpreso questa pratica, perché mi ha veramente permesso di recuperare parti di me che avevo effettivamente perduto, e quindi il senso di benessere, questo senso di rinascita che ho avuto da quel viaggio, oltre che lì siamo in un ambiente talmente forte dal punto di vista naturale, che ovviamente già di per sé terapeutico non andare sull'Himalaya, comunque, che è diventata per me poi motivo di, insomma, di... Ma quindi tu sei tornato da quel viaggio con questa curiosità? Sì, sì. Hai voluto capire che cosa... Perché hai capito immediatamente, hai avvertito... Le potenzialità di questo... L'effetto del... Sì, esatto, è stato così. Se si legge il libro, almeno quello che a me ha colpito molto, è il patrimonio di conoscenze che hai accumulato durante tutti questi viaggi. Quello soprattutto che colpisce è la capacità che hai avuto di cogliere quello che mi viene da definire il minimo comune denominatore dell'universo sciamanico. Per cui un sapere che si potrebbe interpretare come frutto di un ambiente, perché sembra nato lì, in realtà si rivela un patrimonio universale, valido a tutte le latitudini e in tutti i tempi. Il comune denominatore fondamentale al sciamanesimo è che il contatto con il potere terapeutico della natura avviene oggi attraverso un'esperienza estatica. Con diversi strumenti e diverse metodologie, gli sciamani hanno la possibilità di espandere il proprio stato di coscienza per includere ciò che altrimenti non verrebbe visto e percepito. Questo è il comune denominatore. Come lo si fa? Abbiamo ovviamente conosciuto tanti modi, dall'uso semplice di un tamburo e un sonaglio, come è tipico del centro America, l'uso delle piante, danze portate all'estremo, diete o digiuni particolari, ci sono ovviamente in base al contesto culturale, tradizionale e varie metodologie. Però diciamo che l'alimento che contraddistingue lo sciamanismo da altre forme di esperienza del sacro è che ciò che lo sciamano sperisce, vive, avviene sempre in un stato di coscienza non ordinario, diciamo così. E grazie proprio a questo, necessariamente è così, perché la nostra lontananza dal sacro, visto ovviamente l'epoca di secolarizzazione che abbiamo vissuto e che stiamo subendo anche, ci costringe in un certo qual modo a muoverci in quello spazio ampliato in cui abbiamo questa possibilità di fare entrare informazioni che altrimenti non avremmo accesso in qualche modo. Quindi il comunionamento è un po' questo, la capacità di queste persone di compiere questo viaggio statico, a cui si dà il nome di viaggio sciamanico, o viene chiamato anche in altri modi, insomma, e anche ovviamente per far che cosa? Per incontrare queste forze, queste risorse, questa energia, cui loro danno il nome generico di spiriti. Ok? Quindi dietro ogni cosa, ogni forma vivente, altro comune di un amatore che ovviamente contraddistingue tutti gli sciamani in qualsiasi cultura, è che, come dicevo prima, dietro ogni cosa c'è uno spirito, quindi perché non trovare un modo con cui colloquiare o interagire con le piante, col popolo delle pietre, il popolo delle nuvole, si rivolgono così, no? Il popolo delle nuvole, il popolo che cammina su una gamba sola, parlando delle piante, con gli animali, con gli elementi della natura, con il nonno fuoco, con madre acqua, con la paccia mamma, con la terra, quindi tutto dietro c'è un essere senziente col quale noi possiamo interagire. Questo è l'elemento fondamentale della via sciamanica, della pratica sciamanica. E la scoperta che abbiamo fatto noi è che anche noi possiamo interagire. Noi, nati in questo secolo, e che viviamo nella cultura occidentale, tutti noi hanno potenzialmente questo accesso a questa conoscenza, a questa esperienza. Le due esperienze fondamentali che abbiamo visto più o meno ovunque sono state l'idea che lo squilibrio, parlando di guarigione e tornando al tema del libro, è dovuto fondamentalmente a due aspetti. Un qualcosa di estraneo che si è inserito, o ci ha raggiunto, o ci ha colpito, o ci ha invaso, o ci ha posseduto, ma possono essere banalmente anche forme pensiero, credenze, senza andare a pensare a cose di chissà che tipo, oppure abbiamo perduto qualcosa. Quindi, a prescindere davvero dalla modalità e dagli strumenti poi usati in davanti alla guarigione sciamanica, le due pratiche fondamentali sono state estrarre queste intrusioni, come vengono chiamate, dalla persona, con metodi diversi, anche qua ovviamente, oppure andare a recuperare parti che abbiamo perduto nella persona, e quindi riintegrare, di portarle alla propria coscienza, se volete. Queste due, diciamo, modi di guarire, sono veramente condivisi, credo, a livello universale. Poi, che uno usi il tamburo, uno usi uno strumento, usi la voce, uno usi il canto, chi la danza, poi gli strumenti, ovviamente le modalità sono molteplici, sono infinite. Ma una cosa che abbiamo visto ovunque, da est a ovest, nord a sud, è questa idea di massima, cioè, la persona arriva perché è un disagio, vado a vedere se c'è un qualcosa di troppo, che la persona si è fatta carico, dentro di sé, vado a vedere se qualcosa manca, qualcosa che la persona ha perduto per strada, nel suo cammino, nella sua storia personale, nei conflitti che ha avuto, nei suoi traumi. E quindi, da questo tipo di approccio, loro si muovono, quindi se c'è qualcosa da estrarre, va tolto immediatamente, non può continuare a rimanere lì questa cosa, questa energia, chiamatela volete, se c'è qualcosa da recuperare, allora vanno a vedere che cosa c'è da recuperare, per poterlo riportare alla persona. Quindi parliamo di universalità, del sapere sciamanico, e la cosa che ci siamo detti, che volevamo proprio affrontare, e usare un po' anche come stimolo, per eventuali poi domande, è come possiamo noi occidentali, ormai lontanissimi da questa realtà, trarre un insegnamento, un beneficio da queste culture, che sembrano così lontane, invece forse... in realtà non lo sono, non lo sono per nulla lontane, perché dentro di noi c'è comunque sangue indigeno, ricordiamocelo, anche se siamo italiani e nati a Milano, dentro di noi c'è un sangue indigeno, ciascuno di noi ha avuto nonni e bisnonni, che forse lavoravano con le piante, o parlavano le piante, ciascuno di noi ha avuto 3-4 generazioni fa, probabilmente un parente, un antenato, che probabilmente faceva cose non molto lontane, da quello che fanno oggi i curanderos messicani, probabilmente, quindi non siamo così lontani, nonostante quello che possiamo immaginare, quello che noi abbiamo sperimentato su di noi, che proponiamo anche all'interno dei nostri seminari, corsi di formazione, quindi a chi vuole avvicinarsi a queste pratiche, è che ci sono degli strumenti molto, credo semplici, per poter avvicinare in maniera graduale le persone, a questo tipo di esperienza. Abbiamo scoperto su di noi, perché l'abbiamo provato, che non è necessario, perché sullo sciamanesimo, ovviamente ci sono molte idee, anche secondo me confuse, non è necessario ricorrere l'uso di piante, perché molte persone che si rivolgono a noi, come associazione culturale, anche ci chiedono, ma voi usate piante? No, non usiamo piante di alcun genere e tipo, non è necessario, e lo diciamo perché abbiamo fatto l'esperienza con le piante, abbiamo fatto l'esperienza, ovviamente nei posti, là, insomma, dove abbiamo condiviso queste esperienze con loro, possiamo tranquillamente accedere a queste conoscenze, anche semplicemente usando strumenti musicali, come noi usiamo molto il tamburo, i suonagli, la danza, ci sono delle forme che ci permettono comunque di entrare in uno stato di coscienza diverso, non ordinario, e fare comunque un'esperienza sciamanica, e questo lo possiamo fare chiunque, e lo può fare in maniera molto tranquilla, molto serena, molto controllata, senza ricorrere, ripeto, ad altri strumenti. Quindi, quello che facciamo è un po' facilitare ovviamente questa esperienza, chi vuole avvicinarsi a queste pratiche, insomma, che sono, secondo me, quanto mai attuali e necessarie oggi. La risposta mi sembra molto incoraggiante, perché da, chiamiamoli cinque gatti, siete arrivati a 300 persone, che sottraggono al loro tempo, giornate e giornate, per partecipare a questi incontri. Sì, è stato un lavoro molto lungo, e laborioso ovviamente, perché portare quelle esperienze, e farle percepire, recepire, dalla nostra mentalità occidentale, comunque condizionata, è stato un bel lavoro, però credo che ci siamo riusciti, ormai da cinque o sei anni, che proponiamo anche dei corsi biennali di formazione, ci sono seminari di base, insomma, o anche esperienze molto più semplici, di avvicinamento, e la cosa che più ci ha meravigliato, e che più ci dà forza a continuare, è proprio, insomma, i feedback che riceviamo in continuazione, dai praticanti, perché abbiamo un po', la sensazione, insomma, che effettivamente, è un percorso che permette di rientrare in contatto, con le tue risorse di autoguarigione, questo è il risultato finale, quindi, recuperare le nostre capacità, di riportare un equilibrio, laddove questo equilibrio si è perduto, dentro di noi, nelle nostre relazioni, nella famiglia, nella nostra storia personale, ovunque noi vogliamo, ci possiamo rivolgere, a queste pratiche in maniera molto serena, molto tranquilla, e quindi abbiamo portato le esperienze principali, dello sciamanesimo, ovviamente abbiamo avuto modo di vivere, insomma, all'interno di una formazione, che può essere avvicinata, e partecipata, insomma, da chi voglia impegnarsi, ovviamente, da chi ha un intento, nell'andare in questa strada, insomma, in questa direzione. Secondo me, il fine ultimo, è quando la gente, vedi che sta bene, e te lo trasmette. Cerchiamo di portare anche, tutto quelli che sono tecniche indigene, che abbiamo raccolto, nelle varie culture, all'interno delle singole semiari tematici, quindi c'è il semiario, sul recupero dell'anima, ad esempio, cerchiamo di inserire anche, pratiche che sono finalizzate, ovviamente, a raggiungere quell'obiettivo, ma che possono dare la possibilità al partecipante, di toccare con mano, diverse modalità, no? Con cui possiamo fare quel tipo di lavoro, così come anche negli altri seminari a tema, insomma, quello che abbiamo ritenuto essere funzionale, più avvicinabile da noi, lo presentiamo, lo condividiamo, e lo proponiamo. Poi, chiaramente, la differenza la fa il singolo individuo, e la fa la volontà di camminare, con le proprie gambe, nel senso che lo sciamanismo ti dà la possibilità di riprendere contatto con le tue gambe, ma il passo lo deve fare la persona singola, quindi, questo come credo in tutte le cose. Pensavo allo sciamanismo indigeno, e pensavo a questo sciamanesimo che proviamo a fare qui, dove siamo, e mi chiedevo, qual è la grande differenza, la potenzialità superiore che può avere anche questo sciamanesimo, che è diverso dall'altro, perché l'altro è praticato da una popolazione che è nella natura completamente, però noi ne siamo anche fuori, e quindi lo sguardo è diverso, e forse anche le potenzialità sono diverse a questo punto. Certo, la potenzialità è che noi godiamo di questo recupero, e ne beneficiamo. Quando là fare un certo tipo di pratica con un albero è assolutamente normale, per noi diventa un atto rivoluzionario. Rivoluzione vuol dire revolvere, dal latino, ritornare all'origine. Questo ritorno all'origine è quello che ci fa fare il click, no? Dice, ma come? L'albero mi permette di rientrare nel silenzio interiore. Non lo sapevo che gli alberi avessero questo potere. Di fare il silenzio di entrare in me, fermare il mondo, come diceva Castaneda, fermare il dialogo. E allora quando proponiamo di parlare con un albero che può sembrare folle, ovviamente detto fuori di qui probabilmente noi finiremmo in qualche ospedale psichiatrico, ma è un qualcosa di assolutamente normale per un nativo, per un indigeno, no? Quindi parlare con gli alberi. Ecco perché fatto qui per me diventa ancor più bello, perché vedi le persone che dove gli proponi qualcosa che può essere folle, apparentemente folle per la nostra cultura, che può diventare invece rivoluzionario e le persone grazie a questa cosa cambiano. Si danno la possibilità di cambiare, no? Fatto là, passatemi il termine, è più scontato che ciò accada, no? E quindi alcune cose passano nella normalità, fa parte della loro cultura, quindi non è assolutamente qualcosa di naturale. Per noi è diventato innaturale. Recuperare questa naturalità è quello che ci permette di guarire, nel senso più ampio del termine. È una pratica fondamentalmente anche di guarigione delle nostre relazioni, lo sciamanismo, perché dal momento in cui il principio di base è che tutto è connesso, noi la natura che ci circonda, dal momento in cui noi ci muoviamo in un contesto del genere, tenendo presente questo principio, anche le nostre relazioni ovviamente guariscono. Quando i Lakota entrano nella capanna del sudore, recitano che significa tutte le nostre relazioni, è un modo per connettersi alla forza della vita, alla rete della vita, alla rete dei nostri antenati, alla saggezza dei nostri antenati. Questo è fondamentale, perché è proprio la formula che vi fa capire come lo sciamanismo si appoggia su questo principio fondamentale che tutto è connesso. È grazie a questa connessione che si crea anche tra i praticanti che condividono queste esperienze che possono essere delle volte anche abbastanza come dire challenging, no? Abbastanza forti. Si crea un contenitore che è un po' quello spazio che dicevo prima dove effettivamente può avere atto una gestazione. e lo si avverte dal silenzio che c'è come quando c'è qualcosa che sta per nascere di nuovo. Ma gli sciamani sono sempre buoni? Grazie alla domanda. No, affatto. Quelli che hai incontrato tu? No, affatto. Non sono sempre buoni perché ciò che devono dirti e mostrarti te lo dicono nella maniera più semplice ma anche diretta possibile. quindi abbiamo visto e subito subito è una parola ricevuto anche un qualcosa di immediato cioè che loro ci hanno messo di fronte uno specchio e quindi ti dicono se vai avanti da questa strada non andrai lontano e te lo dicono in tanti modi anche in maniera molto cruda e questo delle volte è un po' una sorta oggi la chiamerebbero terapia provocativa sappi se continui così finisci nel burrone questo è un po' il messaggio che ti danno e questo delle volte è proprio ciò che ti permette di fare un passo indietro di dire momento forse è meglio che cambi direzione certo il tamburo cura è un strumento di cura per lo sciamano è un strumento di cura perché il ritmo del tamburo in qualche modo si sincronizza con il battito del nostro cuore che è il tamburo che la natura e la vita ci ha dato e che ci mantiene connesso in questa realtà ordinaria in questa forma umana noi siamo spiriti che stanno facendo un'esperienza umana non siamo uomini che stiamo facendo un'esperienza spirituale e quindi finché il nostro cuore batte noi siamo agganciati a questa realtà e quando sentiamo un tamburo abbiamo la possibilità di risincronizzarci col tamburo della vita e questo ci permette di guarire tante cose partendo dalla sua formazione scientifica come ingegnere cosa ha avuto difficoltà ad accettare all'inizio e poi invece si è lasciata andare una volta che ha acquisito conoscenze e esperienze la difficoltà è stata arrendermi accettare la resa la resa la resa della mente di spiegare tutto la volontà della mente di spiegare tutto la volontà di trovare per forza una casellina nel quale inquadrare quell'esperienza la volontà di dare un nome a tutte le cose se rinunciamo a questo facilmente possiamo lasciare entrare in qualcosa che altrimenti non potremmo far entrare grazie per la domanda perché mi piace la lotta più difficile per me è stata quella di arrendermi no? e per me la possibilità di arrendersi ha un potere fantastico è meraviglioso e quindi quando noi ci concediamo la possibilità di arrenderci ci diamo da noi la possibilità ripeto di vedere le cose in maniera diretta e quindi la difficoltà è stata quella ma è anche stata la parte più sì più affascinante sì chiaramente chi parte in una mentalità scientifica ha questa difficoltà cioè affronta questo mondo e dice cos'è sta roba cosa mi sta succedendo come si chiama voglio sapere tutto da dove viene perché lo stai facendo cosa mi succederà dopo queste domande che a noi vengono rivolte ovviamente dai praticanti che cominciano magari il percorso sciamanico che origine ha che cosa usi oddio cosa mi succede poi cosa mi succede a casa cioè tutta una serie di domande ovviamente è la mente che a un certo punto inizia a crearsi tutta una serie di sovrastrutture di dubbi di paure legittime per carità ma è proprio lì la sfida cioè il lavoro comincia per lo sciamanismo quando comincia il silenzio interno della persona grazie dell'attenzione e buona vita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti